Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City in apertura all'emergenza sanitaria. Arriva il vaccino in Italia così come le polemiche sui social nei confronti del presidente Vincenzo De Luca che nei giorni scorsi si è sottoposto alla somministrazione del vaccino. Abbiamo ascoltato la voce dei torrisi. Consueto punto covid nel Vesuviano, ieri a Torre del Greco registrate 53 nuove guarigioni, comunicati anche 5 decessi. Una tempesta si abbatte su Napoli, la mareggiata spazia via i locali di Via Partenope, il sindaco De Magistris manda un messaggio di speranza. Spazio alla cronaca con la Guardia di Finanza che sequestra a Napoli oltre 800 kg di botti legali e altamente pericolosi. Arrestato invece a Torre Annunziata, il capo dell'ufficio tecnico del comune trovato in possesso di una tangente di 10.000 euro consegnata da un imprenditore affidatario di un appalto. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Arriva il vaccino in Italia, così come le polemiche nei confronti del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che nei giorni scorsi si è sottoposto in prima persona alla somministrazione. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni i pareri dei cittadini di Torre del Greco. Il vaccino è arrivato anche in Italia. Qual è il suo pensiero? Io sono d'accordo. La vaccinazione va fatta perché altrimenti non usciamo più da questo tunnel. Pertanto il vaccino va fatto. Vediamo un attimino. Speriamo che sia fatto in tempi brevi, di modo che possiamo affrontare un futuro migliore. Quindi quando sarà il suo turno lei si vaccinerà? Sicuramente sì. Io ho 60 anni. Non lo so adesso quanto toccherà a me, ma penso in primavera, in estate, non lo so. Comunque indubbiamente sì. Inoltre è polemica sul governatore De Luca che è stato vaccinato e molti personaggi politici e non solo stanno facendo polemica su questa cosa. Qual è il suo pensiero a riguardo? Credo che sicuramente avrà avuto le sue buone motivazioni. Quindi non so perché rientrerà forse anche lui nelle categorie particolari, non lo so. È molto positiva, è ottimo. Ci lasciamo ben sperare. Qual è il suo pensiero riguardo alla polemica che si è scatenata intorno al governatore Vincenzo De Luca? No, è solo semplicemente pubblicità politica. Non ne sento la necessità, ma non perché non credo a questa condizione che sta ormai da un anno a questa parte. Purtroppo io mi occupo di un settore che è fermo, quindi la lascio immaginare. Per cui, niente, in questo momento no. Ecco, questo è il mio pensiero. Poi successivamente vedremo step by step che succede, che cosa verrà fuori. Quindi diciamo che aspetta delle informazioni più valide riguardo il decorso del vaccino? Sono uno di quegli italiani, di quella percentuale degli italiani che aspetta per capire veramente che cosa ci daranno poi, insomma, per difenderci da questo virus, insomma, che ormai fa parte del nostro sistema quotidiano. E cosa ne pensa della polemica riguardo il governatore Vincenzo De Luca? Il modo nel quale abbia fatto la vaccinazione penso poteva un attimino risparmiarsela, quindi aspettare un attimino il suo turno, se vogliamo polemicamente dire questo. Però sostanzialmente ecco questa forma, diciamo, anche di ossessione di questi nostri politici di farsi vedere che loro hanno fatto il vaccino, quindi noi dobbiamo metterci in coda, la vedo un pochettino esageratamente, mi scusi il gioco di parole, esagerata. Il vaccino è arrivato anche in Italia, qual è il suo pensiero? Non può essere che positivo, è un inizio di una speranza, di un ottimismo, la fine di un disastro, mi sembra che sì, non può essere che positivo, no? Quindi lei si vaccinerà? Certamente. E cosa ne pensa riguardo la polemica che si è scatenata sul governatore De Luca che si è vaccinato? È stata una brutta pagina, poco educativa e probabilmente con un effetto contrario a quello che si proponeva il Presidente. A Troia del Greco sono 53 le nuove guarigioni registrate ieri, certificate anche 10 casi di positività al Covid-19, tutti posti in isolamento domiciliare. Comunicati 5 decessi. Si tratta di due cittadini classe 1937 e tre di classe 1923, 1943 e 1948. Muta dunque il bilancio dei contagi nella città. 41 i soggetti ospedalizzati, 217 in isolamento domiciliare, 2.189 guariti e 66 deceduti. Sono 55 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al Covid-19 nel periodo dal 23 al 28 dicembre 2020. Tra i nuovi contagiati un bimbo di 6 mesi, 5 ragazzi tra i 10 e i 16 anni, un 89enne ed un 81enne. Le autorità sanitarie hanno aggiornato anche il numero delle persone purtroppo decedute a causa del Covid dal 6 dicembre. Si tratta di 14 cittadini stabiesi già noti alle cronache. Dichiarate guarite infine 27 persone. Tra di essi un ragazzo di 9 anni, uno di 15 ed uno di 17, ma anche un 82enne, un 83enne ed un 90enne. A Torre Annunziata sono 11 nuovi casi di contagio dal Covid-19 nelle ultime 72 ore. Al contempo si registrano anche 18 guarigioni. Scende a 160 il numero di cittadini attualmente positivi, 144 posti in isolamento domiciliare e 16 ricoverati. Sarà a 1.367 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1.179 guarite e 28 decedute. Napoli invasa dal mare. Notevoli i danni in via Partenope. La forza dell'acqua, infatti, è arrivata fino in strada su tutto il lungomare. Le immagini documentano una situazione catastrofica. Le auto travolte dall'acqua, le tettorie sdradicate e arrivate al suolo, come le luminari di Natale spazzate via dalla tempesta. Un duro colpo non soltanto alla viabilità, ma anche in termini economici, soprattutto per i proprietari dei locali che, dopo la stretta forzata da parte della regione Campania dovuta alla pandemia da Covid-19, ieri sera hanno visto le loro strutture distrutte dalla forza del mare e del vento. Il comando della polizia locale ha disposto immediatamente il presidio e la chiusura di via Partenope all'altezza di Piazza Vittoria, deviando il flusso delle auto sulla riviera per il percorso alternativo del corso Vittoria Emanuele e della tangenziale per raggiungere il centro. Via Partenope è rimasta chiusa anche stamattina per consentire la rilevazione dei danni e il ripristino della viabilità dopo aver rimosso tutti i detriti. Un'amareggiata impressionante ha devastato uno dei simboli della rinascita di Napoli degli ultimi anni. Non sarà un anno orribile affermarci, ha fermato il sindaco Luigi De Magistris che stanotte si è recato sul posto per accertare i danni provocati dal maltempo. Napoli tornerà a splendere con la forza del suo popolo. Forza Napoli, non molliamo mai! Ha concluso il primo cittadino con un messaggio su Facebook. Scoperta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito dell'intensificazione dell'attività di controllo economico del territorio in vista del Capodanno, l'ennesima attività di commercio di botti pirotecnici illegali. I finanzieri della compagnia di Giuliano in campagna hanno tratto in arresto da Fragola un 44enne di Napoli sottoponendo a sequestro oltre 800 kg di botti illegali e altamente pericolosi. In particolare le fiamme gialle hanno individuato l'ingente carico di fuochi pirotecnici all'interno di un vivaio, 300 pezzi classificati F2 e con massa attiva pari a 114 kg, detenuti senza licenza e autorizzazione. Localizzato anche un secondo deposito riconducibile al responsabile all'interno del quale sono stati rinvenuti anche 244 kg di sigarette di contrabbando. Il responsabile è stato tratto in arresto per detenzione e domessa denuncia di materiale esplodente oltre che per contrabbando e posto ai domiciliari. Anche l'operazione odierna si inquadra nell'ambito del dispositivo di prevenzione e repressione del commercio illecito di prodotti pericolosi predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata nella giornata di ieri ha tratto in arresto in fraganza di reato il dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Torre Annunziata per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. I finanzieri lo hanno trovato in possesso di 10.000 euro in contanti poco prima consegnati a titolo di tangente da un imprenditore affidatario di un appalto. L'arresto in fraganza di reato si inquadra nell'ambito di un'indagine su reati contro la pubblica amministrazione avviata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata nel corso della quale le fiamme gialle hanno acquisito rilevanti elementi circa l'esistenza di un meccanismo di dazione di denaro in favore di quel dirigente da parte di un imprenditore di le partenopeo per l'assegnazione di lavori pubblici. I lavori in questione erano relativi all'adeguamento infrastrutturale di alcuni istituti scolastici per far fronte alla congiuntura emergenziale determinata dal Covid-19 in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza il 7 gennaio prossimo. Proprio per tale ragione gli stessi lavori sono stati affidati con procedura di somma urgenza per un importo base di 200.000 euro definita con un contratto firmato ieri 28 dicembre 2020 lo stesso giorno in cui il dirigente è stato fermato. L'operazione odierna delle fiamme gialle del Comando Provinciale di Napoli segue di poche settimane l'arresto di un altro dipendente in feriere dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castellammare di Stabia. Grazie per la cortesa attenzione per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione chiocciola tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484 Grazie e al prossimo appuntamento con l'informazione di TV City. Grazie a tutti.